C'è grande attesa per i personaggi che saliranno sul palco di Piazza Galli a Montesilvano Colle il prossimo 5 agosto in occasione del premio di Martin, giunto alla sua quindicesima edizione. La serata sarà presentata dalla giornalista Mila Cantagallo. È un momento di festa in cui si ricorderanno le nostre tradizioni e legame con i nostri migranti che hanno lasciato la nostra regione per trovare fortuna altrove. Come del resto è accaduto a Gaetano Crocetti, barbiere di Montesilvano e papà di uno dei più grandi attori e cantanti del mondo come Dean Martin, ha ricordato il primo cittadino Ottavio De Martinis. Il prestigioso cappello verrà consegnato ad alcuni personaggi di origine abruzzese che si sono distinti in vari paesi del mondo. Abbiamo la cantante Dia che premeremo al secolo Andrea di Bartolomeo, che premeremo con questo ambito premio perché è venuta proprio in Italia a ripercorrere le vie dell'Aquilano per scoprire quelle che sono state le origini dei suoi nonni. Premio a Antonella Santuccione, che è una scienziata, origini di Cepagatti, vive in Svizzera, a lei si devono numerose ricerche sul tema dell'invecchiamento. Altro premio di Martin a Mario Daniele, un imprenditore, anche lui di origine aquilane, arriva appunto dalla Florida per raccontarci quello che fu il suo viaggio con la veligia di cartone. E poi avremo Vincenzo Di Nicola, un ingegnere, ha lavorato a Silicon Valley, ha scoperto anche dell'intelligenza artificiale di questi nuovi temi. L'edizione 2023 del premio di Martin si aprirà in ricordo di Marsinella a 67 anni dalla tragedia. Saranno presenti il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, il sindaco di Turri, Valignani, Giovanni Placido. Il premio Crocetti è intitolato al papà di Di Martin, appunto Gaetano, che partì nel 1913 da Montesilvano. Quest'anno verrà dato a Matteo Veleno con Giulio Capone, che lo ricordiamo Matteo soprattutto per i suoi reportage in Ucraina, ma anche in quelle che sono le zone più calde della nostra Europa, per i loro reportage davvero unici. Poi altro tema, altro riconoscimento, scusatemi, a Gino Berardi, che è un pittore di Montesilvano, che anche lui ha ripercorso il suo viaggio delle radici scoprendo la casa dei suoi nonni in Francia. E quindi anche lui ci racconterà le sue esperienze.